E' stato soppresso nel 2006 dalla giunta Soru, stiamo parlando dell'Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigianale. Vediamo il servizio di Maurizio Ciotola. Alle mie spalle l'ex sede dell'isola Sarda qui a Caldini in via Bacaredda, un grande centro molto funzionale, molto frequentato, di un passaggio per tutti i turisti che chiaramente arrivavano in città e qui si fermavano. Con la legge regionale numero 4 del 11 maggio del 2006, la regione Sarda guidata da Renato Soru ha soppresso l'isola all'Istituto Sardo di Organizzazione di Lavoro Artigianale. Le motivazioni prese in prestito per eliminare l'istituto erano relative alle dimensioni e alle sue funzioni non più svolte, perché è divenuto oramai un carrozzone politico. L'istituto nato nel 1957 aveva un'importante missione, quella di valorizzare e promuovere nel mondo l'artigianato dell'isola, che per bellezza e tipologia, oltre alla sua unicità, presentava e presenta una raffinatezza di impareggiabile levatura. L'istituto portava ovunque nel mondo questi prodotti artigianali che, ovviamente, permettevano agli artigiani un loro esistere e soprattutto la certezza di un continuum generazionale nell'attività artigianale. Un istituto patrocinato e gestito dalla regione che ovviamente non aveva scopi di lucro, ma ha la missione di rendere evidente e nota la grandezza della Sardegna nel mondo. Ricordiamo negli anni Ottanta, sotto la guida della Giunta Mario Melis, il primo presidente sardista, sostenuto da una maggioranza di sinistra, che l'isola aprì un suo punto espositivo a New York, in pieno centro a Manata. Oggi alle mie spalle vedete cos'è rimasto di quella grande intuizione che imprenditori politici hanno trasferito nelle mani di altri imprenditori internazionali e qualche locale, nei fatti colonizzando la regione senza comparire, se non nelle transazioni online e dirette, soggetti che in alcuni casi adottano nomi o nomignoli che richiamano la nostra Sardegna, lucrando sui prodotti artigianali senza dare un futuro al settore, in cui unico loro fine è la speculazione commerciale.